Allora, buongiorno, eccoci qua. Allora, questa, se le cose funzionano correttamente, dovrebbe essere l'ultima lezione che faremo via Zoom. Da quanto sento da colleghi, le virtual classroom del portale Politecnico ormai sembrano funzionare abbastanza bene, quindi torneremo a utilizzare questo dispositivo che invece è interno del Politecnico invece di usare una piattaforma esterna commerciale. Se ci sono osservazioni o altro su questo, fatemelo sapere o in chat qui oppure su Slack. Magari avete seguito altri corsi utilizzando la virtual classroom, quindi fatemi sapere se ci sono obiezioni o commenti oppure suggerimenti su come gestire questa nuova e diversa modalità. Ci saranno alcune piccole differenze, ma sostanzialmente dovremmo riuscire a gestirlo. Domanda, ci sono sempre le lezioni pre-registrate? Sì, continueranno ad esserci le lezioni pre-registrate con uno o due giorni di anticipo, in modo che voi possiate vederle prima. Le lezioni sono tendenzialmente abbastanza brevi, nel senso che non avendo interazione, io parlo di continuo, cerco di non farvele troppo lunghe, per cui l'obiettivo è di avere indicativamente le lezioni da una trentina di minuti ciascuna, che quindi siano seguibili in un colpo solo. La gestione delle lezioni sarà sempre sostanzialmente la stessa, cioè quella di avere lezioni pre-registrate e poi successivamente una lezione così indiretta come quella di oggi, in cui io vi riepilogo brevemente i concetti principali e rispondo alle vostre domande e vi fornisco chiarimenti, ed eventualmente vi propongo qualche esercizio, qualche riflessione assieme. Allora, riepilogo dell'ultima lezione che vi ho pubblicato, la lezione riguarda quella che è l'integrità visuale. Quindi l'idea è di avere alcuni principi guida per andare a sviluppare una visualizzazione che sia almeno visualmente integra. Quali sono i tre principi guida che vi ho proposto? Sono sostanzialmente il principio di proporzionalità, quello di utilità e quello di chiarezza. Cosa rappresentano questi? Rappresentano tre aspetti fondamentali per poter fare una visualizzazione che sia corretta. corretta, ovvero vi trasmetta la corretta rappresentazione di quelli che sono i dati che noi vogliamo andare a rappresentare. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, una misura che vi ho proposto è quella del life factor, in italiano sarebbe il fattore di menzogna, che è sostanzialmente una misura che va a vedere l'effetto, comunque il rapporto che esistono tra due misure fisiche nel grafico e il rapporto che esiste tra le stesse due misure in termini di dati, e quindi numerici. Ovviamente questi due rapporti dovrebbero essere il più possibile uguali e per cui il life factor dovrebbe essere sostanzialmente pari a 1. ovviamente non sempre è vero, per cui abbiamo valori maggiori di 1 che sostanzialmente corrispondono a un'esagerazione e valori minori di 1 che corrispondono a una diminuzione o riduzione di quello che è l'effetto reale. Vi ho proposto un paio di esempi, ve ne riprendo uno. Questo è un grafico in cui abbiamo due barre, questa con 131,4 e questa con 135,2, che misurano rispettivamente 9,3,5 cm. Per cui il life factor, calcolato in questo modo, quindi il rapporto che vedo sul grafico, 9 cm diviso 3,5, rispetto al rapporto che c'è in termini di dati, cioè 135,2 diviso 131,4, e ci dà 2,5. Quindi 2,5, tornando alla nostra linea guida, è decisamente maggiore di 1 e quindi sostanzialmente esagera il rapporto che c'è nei dati. Per cui questo diagramma sostanzialmente non è una rappresentazione fedele dei dati, ma è una chiara esagerazione, dove sostanzialmente l'aspetto di proporzionalità viene violato. Se volessimo rappresentare in maniera corretta i dati, dovremmo rappresentarli in questo modo. Ovviamente con un grafico fatto in questo modo il problema è che non riusciamo a apprezzare le differenze, per cui se andiamo a vedere due barre che sono anche vicine, ma hanno valori molto prossimi, è difficile andare a percepire la differenza se non andando a guardare i numeri. Per questo motivo l'idea è che devo usare un tipo di grafico diverso, ad esempio un grafico a punti, dove la codifica non è più la lunghezza della barra, ma bensì la posizione rispetto a un asse. E quindi i valori a questo punto possono essere espansi e mi permette di andare a osservare meglio le differenze che ci sono tra i vari valori. Quindi attenzione perché la scelta di un grafico sostanzialmente è importante in termini di che cosa riesco a fare e quanto fedelmente riesco a rappresentare i dati. Allora, un po' di domande. Come si può calcolare l'iFactor? Sostanzialmente qua il iFactor è dato dalla posizione, per cui se 131 è riportato correttamente rispetto all'asse, tutto funziona, a meno che non abbiamo un asse distorto. Stessa cosa sull'asse X. Se la distanza tra i vari numeri, e quindi sull'asse, è uniforme e i punti sono riportati in maniera corretta, sostanzialmente non c'è nessun fattore di alterazione. È chiaro che se questi non li riporto, oppure il grafico che ho riportato qua non è corretto, c'è una possibile esagerazione. Ovviamente su un diagramma cartesiano è molto difficile avere un iFactor, perché la posizione, ripeto, se è riportata correttamente non ci sono problemi. Allora, altra domanda. Le barre non sono lunghe 2, 4, 6 e 2, visto che gli assi partono da 129, quindi, scusate, torniamo qua. No, questo qua immagino fosse il grafico. Allora, le misure che io vi ho riportato qua sono sostanzialmente quelle che avrei stampando questa slide su un foglio A4. Ok? Quindi è chiaro che se voi andate a prendere un centimetro, lo appoggiate sullo schermo, probabilmente avete delle misure diverse. quindi non è detto che abbiate esattamente le stesse misure. Allora, non intendeva la misura in centimetri, ma... Ah, l'altezza, ho capito. Allora, l'osservazione era non la misura in centimetri, ma semplicemente la lunghezza che c'è tra il valore che corrisponde alla cima della barra e il valore che corrisponde alla base. Beh, sostanzialmente se tu fai effettivamente, sì, 131,4 meno 129 fa 2,4, 135,2 meno 129 fa 6,2. effettivamente se tu fai 6,2 diviso 2,4 indicativamente ottieni un valore prossimo a questo. In casi come questo, sì, l'idea è che io vado a confrontare queste due lunghezze. ovviamente, se voi siete tranquilli a casa, avete lo schermo, potete aprire un qualche editor, andare a prendere le misure, usare un righello, quello che volete. se voi andate a osservare ad occhio un grafico, è ovvio che qui 135, se guardiamo queste due barre, rapporto circa 1 a 2, in realtà un po' di più, 135 non è sicuramente lontanamente parente del doppio di 131. E quindi a occhio vediamo immediatamente che c'è un grosso fattore di mezzogna. Allora, anche in questo caso c'è un asse a sinistra. La differenza fondamentale è che in questo caso la codifica primaria che noi abbiamo è l'altezza della barra. il grafico che è qui a sinistra è di aiuto, tra l'altro non ci sono supporti particolari, non ci sono tacche e quindi è difficile andare a leggere. Mentre invece in questo grafico la codifica sostanzialmente è l'unica codifica possibile è la posizione rispetto a un asse. Quindi qui ma anche qui la cima della barra può essere letta rispetto al grafico ma la codifica fondamentale è l'altezza della barra. Quindi voi normalmente se volete avere un valore preciso cercate di rapportarlo al grafico, in questo caso c'è già scritto sopra quindi sostanzialmente l'asse non è molto utile ma la codifica principale è data la lunghezza della barra. Quando noi andiamo a confrontare andiamo a confrontare sostanzialmente le due lunghezze mentre invece qua non andiamo a confrontare null'altro che la posizione rispetto all'asse. Poi è vero che in ogni caso comunque arraggiandoci facendo dei giri particolari facendo dei confronti io riesco a risalire al valore corretto ma il punto che l'impressione immediata è sostanzialmente sbagliata. Il secondo principio di integrità visuale è quello che si chiama data in crescio il rapporto dati e inchiostro ovvero quanto inchiostro quanti informazioni vado a utilizzare nel mio grafico per rappresentare dei dati rispetto all'uso totale di inchiostro all'interno del mio grafico. Allora ovviamente la metafora dell'inchiostro è un po' limitata nel senso che se andiamo a vedere questa slide sì tutto il nero potrebbe essere considerato come inchiostro ma anche di altri colori quindi non è immediato in generale se immaginiamo che di avere uno sfondo bianco tutto ciò che non è bianco sostanzialmente può essere considerato come inchiostro e quindi l'idea è andare a utilizzare la maggioranza la maggior parte possibile dell'inchiostro ovvero dei dati che noi del grafico che noi visualizziamo per rappresentare dati rispetto a tutto il resto l'esempio che fa Edward Tafti che è quello che ha proposto questa misura è il redesign di questo grafico in cui sostanzialmente tolgo prima il bordo tolgo le barre verticali utilizzando la connessione per mantenere le coppie dopodiché tolgo addirittura lo spessore ovviamente questa è una visualizzazione un po' estrema per cui ovviamente fermandoci al passo prima otteniamo già un buon livello per cui in generale l'idea è riduciamo il data il non data ink il più possibile ma ovviamente cerchiamo di rendere il tutto facilmente leggibile allora domanda in una presentazione separare il titolo della slide con una barra colorata può andar bene oppure possiamo ridurre il data ink allora se utilizzassimo questi principi per andare a valutare ad esempio il design di una slide sì ad esempio questa barra questa riga orizzontale che noi utilizziamo potrebbe essere eliminata come pure questa qui sotto ok tuttavia le slide sono leggermente diverse quindi già per un grafico questi principi devono essere applicati con un minimo di criterio sulle slide sì possiamo usarli come linea guida quindi l'idea è di semplificare il più possibile se noi vogliamo avere il titolo nettamente separato dal resto allora la barra ha senso se non vogliamo avere una separazione netta tra il titolo e il resto possiamo eliminarla tenete conto che se noi comunque vogliamo andare ad avere una separazione tra titolo e resto della slide e vogliamo comunque eliminare questa riga dobbiamo utilizzare qualche altro strumento volendo eliminare tutto l'inchiostro inutile l'unico principio che ci resta se fate riferimento ai principi di di Gestalt è la distanza quindi la separazione o la prossimità letta al contrario è l'unico meccanismo che possiamo utilizzare quindi dobbiamo avere un titolo che è nettamente separato dal resto quindi lo spazio qui dal titolo al resto dovrebbe essere aumentato soprattutto se abbiamo a che fare ad esempio con una slide di questo tipo dove c'è il testo se io tolgo la riga devo usare qualche altro meccanismo per andare a separare il titolo dal resto e quindi dovrei aumentare lo spazio quindi sostanzialmente è una decisione se andare a sfruttare meglio lo spazio mantenendo la linea che dà una separazione più netta ma strettamente non è necessaria oppure usare meno intensamente lo spazio dando una separazione più netta qui ovviamente la separazione può essere un aspetto quindi usare la prossimità al contrario potremmo utilizzare dei colori diversi potremmo usare quindi il titolo di un colore diverso potremmo usare l'enclosure quindi racchiudere in qualche modo o con un trattino o con un tratto continuo oppure con uno sfondo diverso il corpo della slide quindi volendo utilizzare questi stessi principi sulle slide vedete che ci sono tante variazioni e le stesse variazioni possiamo anche immaginarle in un grafico legato al principio di utilità Tufti introduce quello che è il concetto di chart junk ovvero la presenza di elementi non strettamente necessari allora domanda se si vuole divinzare un concetto ingrandendo la scritta allo stesso tempo seguire il principio di chart riducendo come bisognerebbe comportarsi sostanzialmente non è che possiamo fare tutto quindi dobbiamo trovare un qualche compromesso potremmo avere la scritta più grande mantenere lo spazio utilizzare degli sfondi diversi ci sono tante scelte alternative poi un po' di fantasia e di creatività sicuramente possono aiutare l'idea è che comunque non andare a mettere in una slide tanti elementi che sono esterni al messaggio che vogliamo rappresentare è sicuramente una linea guida gli elementi esterni sostanzialmente concorrono a formare quello che Tafti chiamava un chart junk ovvero un grafico spazzatura è ovvio che anche qui allora l'esempio di Tafti è questo anche qui ci sono diverse scuole di pensiero io posso avere un grafico molto elaborato con tanti elementi assolutamente estranei quindi la maggior parte di questo grafico è esterno però magari si ricorda più facilmente posso avere un grafico molto più semplice e lineare in cui probabilmente è più difficile a distanza di tempo ricordare i contenuti quindi non è detto che ci sia un'unica strada ovviamente un grafico di questo tipo sta bene su un giornale o una rivista ma se dovete andare a fare una relazione tecnica un articolo tecnico ecco allora probabilmente non è la scelta corretta vi riporto un altro grafico che potrebbe essere definito un chart junk cos'è che non va qui secondo voi allora la domanda la risposta più frequente è la somma di questi valori non è 100% perfetto in generale quando abbiamo un grafico di questo tipo che ricorda vagamente un grafico a torta ci aspetteremmo che il totale faccia 100% in realtà non è il caso assolutamente non c'è nessuna proporzione per cui questo 17% rispetto a questo 44% non cioè neanche sommando questi numeri quindi 49 più 44 più 17 più 36 vede queste due parti in proporzione quindi sostanzialmente in prima approssimazione non c'è alcuna proporzionalità tra i valori che noi rappresentiamo e i dati questo perché perché sostanzialmente se andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio cosa significano qui mi dice che il 44% delle persone da 50 a 64 anni ha provato l'erba questo mi dice che il 17% delle persone oltre 65 anni ha fatto la stessa esperienza quindi questo 44% e questo 17% si riferiscono a due popolazioni completamente separate e disgiunte quindi io non le posso sommare ok non le posso sommare a formare un tutto quindi in generale quando io uso dei grafici a torta o comunque derivati dalla torta sostanzialmente dovrei avere la somma che è un 100% della stessa popolazione l'altra osservazione che è l'ultima che leggo è che anche nell'assunzione che le proporzioni fossero corrette la forma ovviamente è complicata esattamente quindi il tema delle proporzioni e dei valori riguarda la proporzionalità tutte le altre caratteristiche che osserviamo qua sostanzialmente sono problemi di utilità quindi il fatto che ci sia questa forma non è assolutamente utile non ci dà nessuna informazione quindi è assolutamente inutile anzi distrae dal messaggio centrale queste finte ombreggiature che vediamo qua sotto altro aspetto assolutamente inutile altri aspetti che invece potenzialmente sono utili anche se non mi portano particolari informazioni sono ad esempio questa indicazione qua che mi dice che tutto arriva da un sondaggio della Gallup e questo che è sostanzialmente il logo dove è stato pubblicato questo grafico però sostanzialmente la forma le ombreggiature sono degli aspetti che sono assolutamente elementi inutili e qui vediamo insomma un esempio abbastanza evidente di come la presenza di elementi inutili sostanzialmente complichi la lettura del grafico adesso scordo un attimo i commenti ecco i colori sulla foglia i colori sulla foglia non so se andarli a classificare nel principio di utilità quanto piuttosto nel principio di chiarezza ok il principio di chiarezza che è quindi quello successivo sostanzialmente mi dice che tutti gli elementi e le scelte che devono essere fatte devono andare a agevolare la lettura quindi la scelta di colori che sono tutto sommato abbastanza simili tra di loro non è il massimo quindi non è il massimo della chiarezza un altro aspetto che riguarda il principio di chiarezza è sostanzialmente la presenza e l'uso utile e mirato del testo ecco in questo caso invece in termini di chiarezza il testo è stato utilizzato abbastanza bene per cui abbiamo dei valori e abbiamo riferimenti delle categorie ok il punto sostanziale è che nel momento in cui io non ho proporzionalità il grafico è assolutamente inutile potrei limitarmi a del testo abbiamo parlato di chiarezza per quanto riguarda i colori sostanzialmente vi dicevo dobbiamo usare i colori in maniera che siano il più diversi possibili resta il numero resta quel limite diciamo cognitivo sul numero di percezioni diverse che noi riusciamo a leggere e osservare immediatamente che è intorno a 4 quindi quando ho più di 4 colori già inizia a far fatica comunque non ho una percezione immediata e tendenzialmente si raccomanda un uso di tinte medie o pastello in generale quando ho dei colori molto forti fosforescenti diciamo così dopo un po' stancano e quindi è meglio non utilizzarli in generale quando ho un colore forte lo uso per andare a enfatizzare qualcosa quindi se voglio evidenziare qualcosa nel mio grafico allora lì si uso un colore magari forte saturo rispetto agli altri che sono più tene però a questo punto è un uso oculato e mirato di una caratteristica visuale ok non tanto per codificare un valore ma piuttosto per andare a attirare l'attenzione ricordatevi soprattutto di utilizzare colore e testo in maniera combinata e coerente altrimenti rischiate dei fenomeni che vengono chiamati di dissonanza cognitiva allora guardate questi quattro rettangoli e provate uno per uno a osservarlo e a pronunciare il nome del colore che voi osservate e non il nome che c'è scritto nel rettangolo ecco fate un po' di fatica perché vi verrebbe da leggere che so qui blu e in realtà dovreste dire arancione ok è come quando incontrate qualcuno che vi dice sì 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 oppure no 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 è una dissonanza cognitiva avete due canali diversi in questo caso il testo scritto e dall'altro il colore che vanno in due direzioni diverse quindi vi danno due idee diverse quindi il vostro cervello deve cercare di metterle assieme ma non ci riesce perché sono due idee completamente diverse quindi tutto deve potenzialmente questo ovviamente è un esempio estremo però in realtà vi sta a ricordare che dovreste cercare di utilizzare tutti gli elementi visuali quindi tutti gli attributi visuali in maniera uniforme omogenea in modo da portare sostanzialmente lo stesso messaggio allora domanda dal punto di vista della chiarezza utilizzare dei simboli o icone al posto di etichette testuali ad esempio in un grafico a torta può rischiare di confondere chi osserva il grafico allora dipende se il simbolo è ovvio e immediato non so a che simboli stavi pensando se dei simboli standard oppure emoji o altre cose di questo tipo dipende se sono immediati può essere utile è ovvio che dobbiamo avere in mente chi è l'osservatore del nostro grafico per capire se quei simboli effettivamente sono facilmente commensibili o no ok? quindi io finora ho stressato molto il fatto che dobbiamo avere in mente l'obiettivo del nostro grafico la domanda a cui rispondere qual è il messaggio che vogliamo dare ma ovviamente dobbiamo tenere conto molto anche di chi può andare a osservarlo quindi in funzione di chi osserva il grafico io potrei avere delle percezioni diverse vi propongo un altro un altro esempio di grafico ve lo lascio osservare un paio di minuti così ci ragionate con calma provate a fare voi diciamo per conto vostro una piccola valutazione di quello che è la qualità di questo grafico sostanzialmente come risponde ai nostri tre principi che sono proporzionalità utilità e chiarezza e quindi quali sono i limiti di questo grafico ok? c'è nelle slide quindi non non sbirciate altrimenti avete già la risposta provate a ragionare un attimo voi vi lascio veramente un paio di minuti per osservarlo con calma e poi nel frattempo potete tranquillamente scrivere in chat le vostre osservazioni e poi lo commentiamo assieme un paio di minuti un paio di minuti un paio di minuti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Diverso dagli altri, viola il principio di proporzionalità. In realtà, in questo tipo di grafico, la larghezza della barra non significa nulla. Sono più d'accordo col commento successivo, per cui il fatto che abbia uno spessore diverso è un qualcosa di non utile. In generale, ricordatevi che noi siamo programmati a percepire una variazione. Ogni variazione, differenza che osserviamo, sostanzialmente è un qualcosa a cui tendiamo a attribuire un qualche significato. Se ci pensate anche nella teoria dell'informazione. Quando io ho un segnale di tutti i zeri, non ho informazione. Appena ho l'uno, quello mi dà un'informazione. Quindi, il fatto che io abbia uno diverso spessore, pensiamo che abbia un qualche significato. In realtà, qui non ha un significato, se non evidenziare che questa è l'Italia rispetto agli altri. Quindi, non è chiaro perché sia diverso. Ci sono due scale diverse. Ecco, le due scale diverse, tra l'altro, sono diverse per poco, perché qui è 95, il massimo qui è 90. 50 è la stessa base. Torneremo sul problema delle doppie scale. Ecco, quando io ho due scale che sono così vicine, con una leggermente più in basso dell'altra, mi chiedo, ma perché? Cioè, che cosa nasconde? Qual è il significato della doppia scala? E soprattutto, che cosa si riferisce? Quale di queste barre si riferisce alla scala di sinistra e quale si riferisce alla scala di destra? Possiamo andare a fare delle misure, dedurlo, andando a notare che questo qua probabilmente è 61,9. che sta qui, probabilmente si riferisce alla scala di destra, mentre invece questi, quindi 85,2, 89, sono probabilmente a scala di sinistra. Però, accidenti ragazzi, perché dobbiamo far sudare chi osserva il nostro grafico per capire qual è la scala giusta? Ok? Quindi l'idea è, se c'è l'informazione, la do, semplice, non complico la vita a chi deve vedere il grafico. Ok? Altra osservazione, l'asse non parte da zero, quindi di nuovo abbiamo un problema di proporzionalità serio. Un po' perché non parte da zero, un po' perché ovviamente le due scale sono diverse. Quindi anche se partissero da zero, il rosso non sarebbe proporzionale con gli altri, ammettendo che il rosso sia quello che si riferisce alla scala di destra e gli altri riferiti alla scala di sinistra. Quindi è un grosso problema. Altra osservazione, la colonna rossa è sovrapposta agli altri, quindi copre i dati. Ecco, questo è un altro aspetto che io metterei sotto il cappello della chiarezza, che mi dà dei problemi. Quindi ho un dato che copre gli altri e questo è un qualcosa che si deve evitare. Se ricordate, uno dei primi grafici che vi ho fatto vedere come pessimo esempio era un grafico tridimensionale in cui le barre dietro si vedevano poco perché coperte da quelle davanti. Ecco qui abbiamo riprodotto lo stesso problema in due dimensioni. Quindi di nuovo il fatto che ci sia sovrapposizione tra le barre è un problema di chiarezza. Il nero e il grigio sovrapposti, quindi immagino l'etichetta nera e lo sfondo grigio di nuovo mi dà un problema. Questo è in parte legato alla sovrapposizione tra le barre, è corretto. Quando ho delle etichette devo fare attenzione che queste etichette siano leggibili, quindi siano ben diverse dallo sfondo. Altro problema di chiarezza. La lunghezione proporzionale, la leggenda. Ecco, la leggenda è abbastanza distante. In realtà quando ho un grafico di questo tipo effettivamente spesso la leggenda sta via. Per cui potrei utilizzare un direct labeling per migliorare. In generale se utilizzate una leggenda mettetela il più vicino possibile al grafico in modo che sia facile da comprendere. Le scale non partono da zero, l'abbiamo già detto. Colori troppo saturi. Beh sì, il rosso forse è un po' più saturo, gli altri sono più tenui. In realtà il rosso in questo caso, volendo spezzare una lancia a favore di chi ha fatto questo grafico, probabilmente il rosso è giustificato dal fatto che noi vogliamo atterrare l'attenzione sull'Italia. Le linee orizzontali, ecco, queste qua, potrebbero essere eliminate perché ci sono i valori scritti. Ecco, io non arriverei fino a eliminarle, ma sicuramente le potrei fare decisamente più tenui. E in questo caso potrei anche evitare di andare a mettere i valori o tutti i valori. Un altro aspetto di utilità che riguarda un po' la precisione dei dati è quante cifre decimali metto. Ecco qui, 61,9 o 62, cambiava qualcosa? Probabilmente no. Ok? I valori tendenzialmente sono diversi per almeno un'unità, quindi io potrei tranquillamente evitare di mettere la cifra decimale. Non mi dà informazioni aggiuntive. Ecco, altra osservazione interessante. Il fatto che qui io abbia 2000, 2005, 2010 e poi 2014, mi dà, se volete, un qualche piccolo problema che è a cavallo tra chiarezza e proporzionalità. Io mi aspetterei di avere i dati a intervalli regolari. Questo problema, e questo probabilmente è un problema dei dati. Sarebbe interessante andare a vedere questo rappresentato non come un diagramma barre, ma bensì come un diagramma a linee, quindi in questo caso, per cui io qui l'ho riportato nel 2015, abbiamo 5 anni di distanza, ma altrimenti dovrei avere il punto un po' prima e avere la distanza diversa. Ok? Altre cose che avete scritto. Quindi abbiamo detto, gli intervalli qua sono in parte un problema di proporzionalità, in parte un problema di qualità dei dati, che quindi sono dati che non sono coerenti e quindi non decisamente confrontabili tra di loro. il valore riportato potrebbe eliminare la griglia, dicevo prima, magari non eliminare la griglia, ma sicuramente renderla molto più tenue e decisamente in secondo piano. e poi di nuovo l'intervallo tra le parti di cui abbiamo appena parlato. Ok? Direi che avete un po' individuato quasi tutte le problematiche che sono presenti in questo grafico. Quindi questo è sostanzialmente un buon esercizio utile che abbiamo fatto tutti assieme. A questo punto, il prossimo passo che faremo, quindi la prossima lezione che io vi pubblico, sostanzialmente riguarda invece non la parte di critica, di analisi di un grafico esistente, ma piuttosto un'analisi, una parte propositiva. Quindi quali strumenti e quali alternative io posso andare a utilizzare per andare a costruire un grafico? Allora, posso proporre una soluzione alternativa? Sì, ed è quella che vi stavo facendo vedere prima, che è questa. Ok? Quindi tendenze nel tasso di... impiego tra le persone che hanno da 25 a 34 anni con un grado di... scusate, un titolo di studio tipo terziario. Ovvero voi tra qualche anno, nel senso chi ha una laurea. Ok? Per cui in Italia... scusate, in Italia, in Germania e in Francia il livello è qui tra l'85 e il 90%. In Italia, oltre ad essere più basso in generale, è anche in caldo, mentre invece qui, in Germania e in Francia, è sostanzialmente stabile. Ovviamente questo non si applica a tutto, questa è una media di tutte le persone in Italia che hanno una laurea. se andiamo a vedere chi ha una laurea in ingegneria, ecco, in Italia normalmente sta qua sopra. Quindi intorno al 95% tendenzialmente un po' sopra. Ok? Quindi è bene andare a differenziare. Resta il problema che comunque le lauree pagano molto di più all'estero rispetto all'Italia. Giusto per commentare probabilmente anche i dati del grafico che avevamo tralasciato completamente. A questo punto quello che vi propongo come esercizio è di andare a prendere un paio di grafici che sono messi nel canale random Slack uno l'ha postato io un altro l'ha postato Salvatore e vi chiederei di provare a fare un'analisi di questo grafico usando gli stessi tre principi. Quindi proporzionalità utilità e chiarezza. Quali sono gli aspetti positivi negativi? Se volete potete anche provare a ipotizzare qualche modo di rivedere questi grafici. appena appena riesco a pubblicarvi la lezione sulla costruzione dei grafici invece che sull'analisi poi ragioniamo assieme anche sulle possibilità di costruzione. Quindi questo è un grafico e questo è l'altro. Allora ci sono problemi diversi e ovviamente hanno entrambi debolezze diverse. Ok? vi chiederei quando andate su Slack a commentare di andare a commentare in un thread quindi non scrivete semplicemente sotto un nuovo messaggio ma bensì andate a creare un thread a partire dal post in modo che tutti i commenti poi siano raggruppati assieme sia più facile poi per voi vedere e confrontare con gli altri e soprattutto poi per me andare a vederli e commentarli così li commentiamo assieme. Ovviamente potete se avete punti di vista diversi discuterne io poi entro e cerco di commentare e direi che nella prossima lezione andremo a commentare assieme alcuni dei commenti che farete qui sopra quindi esercizio per la prossima lezione commento di questi due grafici utilizzando i principi che abbiamo riepilogato adesso e che erano che ho presentato nell'ultima lezione che vi ho mostrato. A questo punto io chiuderei qua la nostra lezione in diretta di oggi vi pubblicherò una nuova lezione sulla parte attiva di costruzione dei grafici allora esatto stavo per chiedere se c'erano diciamo commenti o altre cose su tutti gli altri aspetti allora il sondaggio alla fine è arrivato quindi io spero che non ho più avuto segnalazioni da nessuno quindi immagino che bene o male siete riusciti o a trovarlo in precedenza o vi sia arrivato successivamente io ho segnalato quindi probabilmente se mancava qualcuno dovrebbe averlo mandato altro aspetto organizzativo lunedì ci sarà un'altra lezione in diretta come questa in cui commenteremo gli aspetti positivi quindi quelli costruttivi la capacità di costruire un grafico quindi quali sono i principi che posso seguire mentre invece giovedì prossimo ci sarà un laboratorio il laboratorio sarà fatto sostanzialmente su fogli elettronici quindi sostanzialmente immagino che voi tutti abbiate o Office o di Microsoft oppure Open Office e quindi potete utilizzare quello allora alcuni vedo in chat che mi dicono che avete il il codice per il sondaggio che immagino vi sia stato mandato in qualche modo ma vi manca il link ok provo a recuperare il link e ve lo metto a disposizione immagino che sia lo stesso per tutti ma vorrei verificare e il codice dovrebbe essere invece personale il codice personale perché sostanzialmente userete lo stesso codice in più sondaggi però quel codice non è riconducibile alla vostra matricola e quindi per noi in generale è sostanzialmente un modo di andare a rendere anonimo il questionario ma visto che ci sarà un questionario ora un questionario alla fine avere la possibilità di accoppiare i due questionari che sono stati compilati dalla stessa persona ok quindi faccio questa verifica e ovviamente vi faccio avere il link in modo che possiate compilare il questionario ora direi che chiuderei qui la lezione vi invito come abbiamo fatto come vi avevo suggerito la volta scorsa a provare a compilare il vostro il vostro diario personale di riflessione ok vi verifico anche chi non è arrivato ok quindi i prossimi dieci minuti vi invito a provare a compilare il vostro diario adesso provo a ecco quindi uno dei commenti è che è necessario entrare da pc per vedere gli avvisi generali mentre invece sull'app non si vede questo potrebbe essere una limitazione quindi lo faccio presente a chi ha mandato gli avvisi ok quindi i prossimi dieci minuti per il vostro diario provate a notare le vostre riflessioni il diario che vi ho postato qua sostanzialmente prevede di rispondere a queste domande allora il link che è stato postato in chat io ve lo riporto direi anche su slack così ce l'avete dappertutto lo faccio a breve prima vi ricordo di provare a compilare il vostro diario lo potete fare in maniera elettronica quindi su un work process utilizzando il documento Word su un quaderno probabilmente l'uso di un quaderno e la scrittura a mano vi permettono di distaccarvi dal 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 mezzo e di riflettere meglio ok poi più avanti proveremo a scambiarci delle dei pareri su come siete riusciti a compilare il diario quanto vi sia vi sia stato utile quindi le domande a cui potete provare a rispondere sono che cosa vorrei ricordare di questo modulo quindi di questa particolare lezione cosa vi sembra di conoscere meglio cosa vi sentite più sicuri che cosa avete trovato difficile cosa vorreste lavorare che cosa vi è sembrato magari insolito e un qualcosa cosa magari vi resta ancora come curiosità ok se alcune di queste cose sono elementi soprattutto se avete dei dubbi e delle curiosità scrivetemi su Slack ripeto la curiosità o il dubbio di uno di voi può sicuramente essere comune a tanti quindi rispondo volentieri perché può essere di aiuto a tanti quindi chi magari non ha espresso stato in grado di esprimere chiaramente la domanda poi leggendo quanto c'è sulla chat sul canale di Slack magari lo trova utile e quindi è un servizio che fate a voi stessi per chiarirvi le idee e anche agli altri mentre invece il giornale è un qualcosa di assolutamente personale che permette a voi di riflettere e di fissare le idee ripeto provate a farlo anche dopo aver guardato le lezioni che io vi ho postato passato o riposterò in futuro online vi lascio i vostri dieci minuti di riflessione e intanto io vi posto il link sul su Slack buon pomeriggio e a risentirci in diretta lunedì utilizzeremo la virtual classroom del Politecnico sperando che funzioni e presto vi metterò una nuova lezione videoregistrata cerco di farlo il prima possibile in modo che avete tempo con calma di guardarlo arrivederci a tutti e buon pomeriggio in futuro in in v in v in 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 v v v Grazie.